Siamo con il sindaco di Paola e al quale chiediamo l'importanza di questo evento e soprattutto della vicinanza dei comuni che fanno rete in fondo e si valorizzano a vicenda. Intanto è una bellissima giornata perché un sindaco trova la sublimazione del suo lavoro e del suo impegno quando si arriva a conclusione come questa, quindi il sindaco di Cleto al quale sono legato da antica amicizia mi ha invitato, sono stato ben lieto di venire e quindi giusto come ha detto lei c'è la presenza di tanti altri sindaci, c'è il presidente della regione, il presidente della provincia perché poi un evento del genere finisce col caratterizzare non soltanto questa comunità ma l'intera provincia e l'intera regione. C'è bisogno di stare insieme perché ogni paese ha delle sue peculiarità, se riusciamo a fare rete, se riusciamo a fare sinergia c'è la possibilità di dare un'altra immagine della Calabria. Quando anche i cittadini vedono insieme tante fasce tricolori alla fine finiscono col credere che forse un messaggio di speranza è possibile lanciare. Perfetto, Liberi TV Riccardo Cristiano.